Bene, c'è stato un piccolo collasso della rete. Io ho un ritorno in cuffia, quindi pregherei chi è collegato su Skype di staccare l'audio se sta seguendo sul sito internet, altrimenti il ritorno è sparito, quindi adesso ci siamo. Stavo annunciando ai congressisti che riprendono i lavori di questa prima giornata del congresso costitutivo della nascente associazione TV Radicale. Alle 17 si sono aperti i lavori congressuali, lo dico a beneficio di chi ci sta ascoltando appena adesso. Ci sono 41 congressisti registrati, 22 soci costituenti e 19 sono invece gli osservatori. alla chiusura di questi lavori congressuali di stasera. Adesso ci saranno degli interventi, il prima di intervenire sarà Luca Pardi, subito dopo di lui interverrà altro ospite, Luca Nicotra, quindi avanti Luca, viva Luca. Dopo di lui ancora vediamo se riusciremo a fare il collegamento con Musumeci, con Paolo Musumeci e dopo di che chiuderà i lavori Donatella Corleo da Palermo. Al termine poi dopo di questi lavori qua, TV Radicale animerà una trasmissione, diciamo un appendice ai lavori congressuali, una specie di dopo congresso, vale a dire faremo una chiacchierata assolutamente informale fra chiunque vorrà esserci, su Skype animeremo in diretta streaming, la potrete seguire dal sito www.tvradicale.it e animeremo un forum post giornata congressuale con chiacchiere e libertà per parlare di politica, per parlare di questo congresso, per parlare degli sviluppi futuri, per parlare anche di questo congresso che a partire dalla chiusura della giornata odierna si sposterà per tutta la settimana online. Vi invito ad andare sulla pagina principale del sito www.tvradicale.it per andare a leggere i documenti congressuali, attualmente c'è l'ordine dei lavori, poi c'è il regolamento congressuale che è stato approvato in apertura dei lavori attraverso una votazione palese con il nostro sistema gestito egregiamente da Donate Colpicella che ringrazio verso Google Group, dopodiché abbiamo previsto il modulo Romolini per garantire la segretezza del voto e per votare online per eleggere le cariche Presidente, Segretario, Tesoriere ed eventuali rappresentanti insieme al Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Tutto questo avverrà chiaramente domenica prossima, quindi a questo punto date queste comunicazioni, sto controllando se c'è qualcosa che dimentico, qualcosa di importante da dirvi, ma non ce ne sono, a questo punto con vero piacere do la parola a Luca Pardi. Luca a te la parola. Sì, ci sono, mi sentite? Perfettamente. Bene, un saluto a tutti, vi ringrazio per avermi riservato questo spazio, io ovviamente avevo pensato che fosse il caso di presentare l'associazione Rientro Dolce di cui sono segretario, però mi rendo conto che è inevitabile fare un breve commento su quello che sta succedendo perché immagino che tutti quelli che sono in ascolto in questo momento ci stiano pensando. Io non sapendo di più delle dinamiche che si sono sviluppate su questa questione del, presumibilmente del nome della TV Radicale, non posso che mantenere una posizione agnostica, nel senso che non ho la più pallida di quello che sta succedendo, certo che sembra un po' bizzarro che la cosa sia avvenuta fuori dopo 14 mesi di sperimentazione. Io comunque vi ringrazio di nuovo di questo spazio e passo a parlare di Rientro Dolce di cui pensavo di essere chiamato a parlare. Rientro Dolce è un'associazione radicale che è nata intorno al 2003-2004 e si occupava in origine quasi esclusivamente della questione demografica, della cosiddetta bomba demografica della sovrappopolazione e il nome dell'associazione nasceva da una locuzione usata da Marco Pannella proprio in un intervento pubblico a Radio Radicale in cui parlava del rientro dolce della popolazione entro i 2 miliardi di individui. Misteriosamente per qualche motivo, o non misteriosamente, nel senso che Marco sicuramente ha un intuito unico nel mondo politico, il numero di 2 miliardi di persone è un numero che sostanzialmente trova d'accordo molti di quelli che si occupano di sovrappopolazione come numero ideale che possono popolare questo pianeta. Il problema della sovrappopolazione è stato vivo nel partito, tenuto vivo attraverso Radio Radicale con gli interventi di Luigi De Marchi e la questione, la nascita di Radio Radicale, scusatemi di rientro dolce, ha un suo prologo nella mozione litirana voluta e presentata oltre che da Fabrizio Argonauta, anche da Dent Amaro e che non ebbe poi un seguito particolarmente fortunato, anche probabilmente a causa della situazione del partito radicale transnazionale. Le finalità dell'associazione di rientro dolce quando nacque nel 2004 erano abbastanza semplici, erano riferite essenzialmente alla questione demografica, quindi del rientro della popolazione attraverso naturalmente metodi che non fossero coercitivi, come dicevamo fra virgolette di tipo cinese, ma attraverso naturalmente l'informazione, l'educazione a quella che si è chiamata la salute sessuale riproduttiva. L'associazione nasceva così, in realtà poi c'è stato uno sviluppo di cui sono anche parzialmente responsabile nel considerare il fatto che a causa delle inerzie inerenti alle questioni demografiche, l'inerente inerzia della demografia era necessario anche considerare altri parametri, altri componenti dell'ambiente globale che non fosse soltanto la popolazione umana e quindi anche i consumi, anche tutto il metabolismo sociale ed economico che non è soltanto popolazione. L'associazione ha avuto un'evoluzione abbastanza lineare, gli è stato rimproverato di non avere una particolare capacità di azione politica, io di questo siccome sono stato il segretario ininterrottamente dal primo congresso fino a quello che è in questi giorni in corso di svolgimento, sono stato il segretario quindi responsabile politico, me ne prendo interamente la responsabilità, infatti in questo congresso sono dimensionario e non mi ripresenterò e spero che chi prende il mio posto sarà capace di dare all'associazione dei risultati politici migliori dei miei. L'associazione naturalmente come dicevo non si è limitata a considerare le questioni relative soltanto alla popolazione ma ha preso in esame tutto quello che riguarda il metabolismo sociale ed economico umano e la nostra conclusione, diciamo conclusione parziale, temporanea e comunque un nostro anche suggerimento di riflessione agli altri compagni del partito è che la crisi economica in cui siamo immersi non sia in realtà una crisi economica pura ma sia in realtà la manifestazione più evidente di una crisi ecologica del nostro metabolismo che si può fare. Il club di Roma aveva individuato come il raggiungimento dei limiti dello sviluppo. Da questo punto di vista io personalmente sono stato la persona che per primo ha portato nel partito la questione del picco del petrolio che un po' rappresenta in forma di postasi la questione del raggiungimento dei limiti dello sviluppo perché è una questione centrale questo sempre a mio avviso e anche avviso degli altri compagni di Rientro Dolce, quasi tutti, il picco del petrolio è essenzialmente il raggiungimento del massimo delle produzioni petrolifere nel mondo ed è essenzialmente traducibile come fine dell'energia a basso costo e l'energia a basso costo è stata la principale ragione sia dell'esplosione demografica che della crescita in interrotta del mondo industrializzato e questo sicuramente dal nostro punto di vista è un grosso problema che può essere mitigato e alleviato anche attraverso misure economiche naturalmente e anche attraverso una politica dell'empowerment delle donne in modo che le donne nel mondo abbiano un controllo sulla propria fertilità ma non può essere risolta all'interno del paradigma vigente della crescita infinita. Non abbiamo sposato la decrescita felice o forme di decrescita ma sicuramente ci siamo posti il problema di questa specie di mantra, ci sono altri che nel Partito Radicale hanno usato il termine mantra parlando di crescita, mi riferisco per esempio a Daniele Capezzone, noi siamo convinti che questo mantra che ormai è praticamente di tutti, lo vediamo dagli ex comunisti ai liberisti più convinti sia essenzialmente sbagliato dal punto di vista naturalmente della considerazione dei limiti del pianeta. Sul piano della questione demografica a noi sembra abbastanza ovvio che ci sia un legame inscindibile fra crescita della popolazione e disponibilità di energia, questo si vede anche semplicemente nei diagrammi, comunque se voi guardate la storia della popolazione mondiale che ci ha messo, in cui la popolazione umana ha messo tutta la sua vita biologica per raggiungere nel 1800, all'inizio del XIX secolo, il primo miliardo di popolazione, oggi siamo a 7, quindi abbiamo moltiplicato per 7 la popolazione umana in poco più di due secoli. Il fenomeno è chiaramente legato alla scoperta, non solo alla scoperta, ma alla scoperta o all'invenzione dell'uso dei combustibili fossili, quindi del carbone con la macchina a vapore, la rivoluzione industriale e tutto il resto. Non diamo un giudizio negativo sulla crescita, diciamo che non è possibile in un sistema limitato, in un sistema finito, come un pianeta, avere una crescita infinita e quindi bisogna porsi il problema di rientrare, questo è l'origine della parola rientro e possibilmente di rientrare nel modo meno drammatico possibile e da qui viene la parte dolce del rientro. Sulla possibilità di intervenire sulla questione per esempio della natalità, molti ci hanno accusato di pensare a soluzioni illiberali, voi pensate che la Banca Mondiale ha appurato, comunque ha stimato, che nel mondo ci siano ogni anno 75 milioni di gravidanze indesiderate e che la popolazione mondiale aumenta di 70-80 milioni di individui ogni anno. Questo significa che anche solo rendendo, dando la possibilità alle persone di avere soltanto le gravidanze desiderate, avremo una possibilità di controllare almeno una parte di questa natalità. Questo per quanto riguarda naturalmente l'aspetto della popolazione, per quanto riguarda l'aspetto delle libertà economiche, è questo un dibattito che secondo me sarebbe giusto aprire nel partito, è possibile pensare a un sistema di libero mercato nel quale non è più necessario la crescita economica, nel senso che non è necessario che cresca il PIL. È questo possibile? Io ho posto questo quesito più di una volta nel mondo radicale, ma non ho avuto mai altro che risposte estremamente dogmatiche, in cui essenzialmente si guardava al sistema economico, come se il sistema economico fosse sostanzialmente immutabile e come se la storia degli ultimi due secoli, che dal punto di vista di una specie umana ma anche dal punto di vista della storia economica sono un'inezia, dovesse essere per forza la legge, quasi una legge naturale come la legge di gravitazione per cui l'economia deve crescere. Questo ancora non mi ha convinto e quindi mi chiedo ancora se non si possa essere liberali, io penso di esserlo, avendo un obiettivo che è quello del rientro del metabolismo sociale ed economico umano all'interno dell'alveo della sostenibilità. Secondo me la crescita infinita è impossibile, i fattori che vediamo dal picco del petrolio ai mutamenti climatici a 10 mila altre cose che sono semplicemente sotto gli occhi di tutti, l'esaurimento del pescato, il consumo del suolo fertile, la desertificazione e la riduzione di biodiversità, sono tutte cose che non sono demagogia da partito verde, sono realtà che sono descritte chiaramente nella letteratura scientifica, non ci sono macchinazioni internazionali per distruggere il capitalismo. Certo che questo capitalismo qui, questa specie di capitalismo guidato da un'oligarchia abida e cinica probabilmente ci mette del suo nel far apparire poi delle cose estremamente facili da spiegare a uno studente del primo anno di scienze naturali come una specie di complotto internazionale. Io non so se sono fuori dai tempi, quindi diciamo che vi lascio così, di nuovo vengo a ringraziarvi per questo spazio che ci avete dato e spero di continuare a avere un rapporto con questa tv nascente a cui da quando ho saputo che esisteva l'ho trovata un progetto estremamente interessante. Vi ringrazio per l'attenzione. Luca, grazie, veramente per il tuo momento molto interessante, noi siamo lieti che rientro dolce, tu ci dedica anche questa attenzione, noi nei vostri confronti saremo assolutamente sensibili, sarai e sarete i nostri graditi ospiti nel futuro, anche nel futuro prossimo, quello dei prossimi giorni. Guarda, volevo dirti anche, ti volevo informare, questo mi dà anche l'occasione per farlo sapere ancora una volta di più ai congressisti, che noi come associazione abbiamo previsto un'iscrizione particolare, cioè nella nostra proposta di statuto, questo comitato promotore che sta proponendo questa bozza di statuto, il nome, tutto che verrà deciso nel dibattito generale che si sta svolgendo adesso, in tutta la prossima settimana e poi dopo si chiuderà domenica prossima, abbiamo previsto nella nostra bozza di statuto la possibilità di dare alle associazioni la possibilità di iscriversi e nel momento in cui si iscrivono diventano soggetto costituente di tv radicale. rimarcando chiaramente un canale preferenziale e perché parteciperanno alla gestione politica e anche amministrativa dell'associazione. Ti invito perciò a valutare come rientro dolce la possibilità di diventare soggetto costituente di tv radicale a norma di statuto, così come io mi auguro verrà approvato domenica prossima, valutate anche questo, così questa tridunione, questa vicinanza e questa possibilità di interagire e fare quello che il nostro scopo ci deve dire far conoscere le associazioni radicali, far conoscere tutte le tematiche delle associazioni anche delle associazioni non radicali, sia sempre nel momento di comunicazione, associazioni, quindi all'interno di questa galassia e soprattutto all'esterno verso tutti quelli che sono i cittadini italiani che potremo raggiungere. Io ti ringrazio, ti ringrazio davvero tanto, chiamo Roberto dell'Atenza, grazie a te, a presto, a seguirci, io chiamo Roberto per vedere… Allora, Simbi, gli hai iscritti a parlare, sarebbero Andrea Deliberato, dopo Luca Nicotra, poi Paolo Musumeci, Giude Donatella Corleo e ricorda i congressisti che se vogliono intervenire in questa fase di dibattito generale possono richiedere la parola inviando un'email all'indirizzo tiburadicalechiocciolagmail.com, c'è qualcuno che mi ritorni… È collegato Andrea? Ah ok, allora dicevo che chi vuole intervenire può richiedere l'iscrizione a parlare inviando un'email all'indirizzo tiburadicalechiocciolagmail.com, la riceve Donato Wolficella che sta coordinando la segreteria di presidenza e tutti questi lavori che salutiamo e ringraziamo, quindi come è attivo il collegamento con Andrea Deliberato alla parola, seguirà Luca Nicotra… Vediamo se risponde… Eh, questo sicuramente, altrimenti chiamiamo Luca Nicotra… Io mi rendo conto che chiaramente… Ah ecco Andrea… Andrea benvenuto, siamo riusciti finalmente a diciamo… Ti sentite? Pronto? Andrea… Mi senti? Ciao… Ciao cari radicali di TV Radicale… Andrea, buonasera alla parola… Prego… Buonasera… Ciao… Ma io premetto che non ho avuto modo di ascoltare il dibattito di oggi perché casa mia è stata infestata da diversi ospiti… però volevo prendere la parola riguardo alla questione un po' meno simpatica se vogliamo riguardo a possibili incomprensioni con radicali italiani e anche per spiegare per chi ha avuto la bontà di seguire Facebook, il mio post su Facebook dove dicevo TV Radicale, cari compagni state sbagliato tutto… Ho intanto a Donato che mi scrivi qui… Scusami Andrea… Andrea… Andrea perdonami solo un attimo… Tu hai la possibilità di mandarci il tuo video perché… No… Stavo rispondendo appunto a Donato… Io non ho una webcam… Ho solo una schifezza di… Purtroppo di… Continua pure il tuo intervento… Vai… Quindi tanto non è che sono uno spettacolo da vedere… Poi vedo tutti i maschi… Quindi farmi vedere da voi non è che sia così importante… Diciamo… C'è che c'è piacere anche in questo… Eh… Esatto… Diciamo… Eh… Riguardo la questione un po' di chi fa… Mi sembra che era nata… E ricordo già vecchie polemiche… E… Con Mario Staderini… Comunque con radicali italiani… Intanto… Credo che… Insomma… Non sarebbe stato male contattare Mario prima… Però vi voglio dire… Perché dico… Cari… Cari compagni e cari compagni di TV Radicale state sbagliando… Perché… Il riconoscimento secondo me… Dell'associazione TV Radicale… Da parte di radicali italiani… Non ha… Alcun senso… Alcun significato… Né alcuna utilità… Per TV Radicale… Radicali italiani… Un'associazione che si occupa soprattutto di… Come dire… Accogliere… Approvare… Quelle associazioni radicali… Che sono associazioni radicali territoriali… Locali… Mentre le altre associazioni radicali… Sono… Soggetto costituente del Partito Radicale… Transnazionale… Ergo il Partito Radicale Transnazionale… Non Violento… Transpartito… Così diciamo tutte e cinque… Come vuole Pannella… Quindi… Voglio dire… Secondo me… Il problema del riconoscimento… Non è tanto verso radicali italiani… Che… E soprattutto deve riconoscere… Associazioni territoriali… Locali… Ma… Verso… Il Partito Radicale Transnazionale… Di cui radicali italiani… E' uno dei soggetti… Costituenti o afferenti… Così come… Tutte le associazioni… Da nessuno tocchi caino… E giù giù… Fino… All'era… Quindi io penso che… La questione del riconoscimento… Sia ma anche da un punto di vista… Tecnico e burocratico… Particolarmente difficile… Da parte di Mario Staderini… Mentre penso che… Questo riconoscimento… Vada chiesto… Al Partito Radicale Transnazionale… Al Senato… Del Partito Radicale Transnazionale… Presiduto da Marco Pannella… Quindi credo che questa sia… La maniera… E… Tra le osservazioni che notavo… Scritte… Sicuramente è molto giusto dare spazio… A tutte le associazioni… Il mestiere di Radio Radicale… È un mestiere difficile… Il mestiere di direttore di Radio Radicale… È un mestiere particolarmente difficile… Perché… Da un lato… C'è l'informazione radicale… Però dall'altro… Non dimentichiamolo… C'è il servizio pubblico… Quindi ore e ore… Che vanno dedicate… Alla destra di Storace… Piuttosto che… Partito dei Comunisti Italiani… E quant'altro… Poi… Solamente… Alcune ore… Residue… Di programmazione… Possono essere dedicate… Alla radio… Quindi… Penso che… Siccome non lo so… È partita un po'… Diciamolo… Sul binario sbagliato… Con Mario Staderini… Io poi… Non so… Vorrei avere… Di scontri… Da parte di alcuni di voi… Del presidente… In pectore… Roberto Mancuso… Del segretario in pectore… Marco Marchese… Rimane… In questo caso… Da decidere… Chi svolgerà… La funzione di tesoriere… Ma io credo che… Gianni Colacione… O… Giovanni Tateo… O lo stesso Stefano Russo… Possono essere delle… Validissime… Candidature… In tal senso… E… Questa nuova dirigenza… Dovrebbe… Contattare… Marco Pannella… Maurizio Durco… Ma comunque… Senato… Del Partito Radicale… Trasnazionale… Per vedere… Se… Come… E dove… C'è… La possibilità… Di un'affiliazione… Al partito… Da parte di TV Radicale… Perché… Vedete… È difficile… Perché chiaramente… Siamo in un'area radicale… Soprattutto a livello di comunicazione… Siamo… Spesso… No… Si dice… Siete bravi a pensare… Avete tante idee… Tante proposte… Convincenti… Non… Le sapete dire… Non le sapete comunicare… E TV Radicale… Può essere uno strumento prezioso… Può essere anche uno strumento… Che sopperisce… Per avere più tempo a disposizione… O magari anche… Per maggiore sensibilità… Dei suoi gerenti… Delle lacune… Che… Comunque… La radio può avere… Perché… Adesso non ho fatto Radio Radicale TV… Ma non sono sul web… Io… Veramente è una questione… Che vorrei affrontare… Cioè… La radio era qualcosa… All'avanguardia… La radio privata… Negli anni 70… Sono passati i 40 anni… Negli anni 70… Andavo alle scuole elementari… Ragazzi… Oramai sono un uomo di mezza età… Quindi… Veramente… Cerchiamo di… Parlare col Senato… Che secondo me… Istituzionalmente… È la cosa più giusta… Se non è così… Io voglio dire… Vi vedo anche tanto preoccupati… Inquietati… Guardate… Come i canali diretti li hanno… Li hanno usati anche più volte… Nessun capataz di Torre Argentina… È venuto a chiamarmi… A dirvi… Ah… Ci sono questi… Radio Radicale rompono il cazzo… Per un motivo… Per un altro… Non è successo… Quindi… Resto… Ma orgogliosamente… Come socio costituente… E… Con voi… Perché non credo che… Riconosciuta o meno… Io li voglio vedere… Perché li vado a trovare… Marco… Marchese… Vengo in Calabria… Ti vengo a prendere per la collotto… Gianni… Non lo so… Mi devo armare di mazza da baseball… Perché la mole… È quella che è… Però… Voglio dire… Non penso che voi… Se non siete riconosciuti… Domani diventate rifognaroli… O diventate dipietristi… O diventate fascisti… Cioè… Sempre radicali… Che cazzo stiamo dicendo… Da fastidio l'aggettivo… Cazzo… Vorrei vedere una bella campagna… Dove da fastidio l'aggettivo… Quando radicale… Si chiama… Magari forza nuova… Che si definisce la destra radicale… Quelle altre merdaioli… Tilger… Fronte nazionale sociale… Come cavolo si chiama… O piuttosto… Quelli dei cossi sociali… La sinistra radicale… E questa roba qui… Quindi voglio dire… Al di là del fatto che… Chiaro non esiste nessun… Copyright… Sull'aggettivo radicale… Mi sembra… Di non dire un'eresia… Mi sembra molto meglio usata… Insomma… Da noi o da voi… Da questi soggetti… Che sono comunisti… O neofascisti… Per cui… Sicuramente resto con voi… Però… Una piccola ramanzina… Volevo farla… Nel senso… Va benissimo… Adesso ci riconosciamo… In questo congresso… Virtuale e gratis… Però ragazzi… La tv costa… E non mi dite cazzate… Perché… Una farm costa… Ma al di là del vostro ravolo… Che è gratis… Dei vostri pc… Perché… Traffico così… Immagino che Gianni o Marco… Abbiano… Roberto… Un computer completamente intasato… Da tv radicale… Ci sono dei costi… Mettiamo… Per chi la vuole fare… Chi ci vuole essere… Una piccola quota di tesseramento… Che davvero… Può essere… Forse piccola… Visto che oggi… Addirittura… Avete fatto… A costo zero… Può essere l'equivalente… Di una… Di un tesseramento… Per una associazione locale… Però… Un po' di soldi servono… Un dialogo con Torre Argentina serve… E… Radicali italiani… Secondo me… Non è una strada giusta… Un bel dialogo… Col senato del partito… Vediamo come siamo accolti… Io poi… Nel mio piccolo… Se posso provare a rompere le palle… Insomma… Da Marco Pannella in giù… È il mio massimo piacere… Quello di rompere i coglioni… I nostri dirigenti… In pratica… L'unico fine che ho… In quanto militante… È questo… E quindi… Vi saluto… E vi abbraccio tutti… Caramente… Vi invito… Numero uno… A rivolgervi… Al senato… Del partito radicale… Trasnazionale… Non a radicali italiani… Che se ha… La capacità di riconoscere qualcuno… Si tratta di associazioni locali… Non di qualcosa come tv radicale… Numero due… Noi almeno che voteremo… Quei due o tre disgraziati… Sfigati… Che saranno costretti a fare… Chi il presidente… Chi il segretario… Chi il tesoriere… Perché si vede che… Come militanti… O militonti… Sono scarsi… Non riescono a difendersi… Devono prendersi pure… La briga di avere l'incarico… Almeno quelli più attivi… A versare anche… Una piccola quota… Se… Poi non so… Devo preparare un emendamento… Come sarà fatto… Io in quello… Sono allievo… Della segretaria emerita… Antonella Caso… Sono abbastanza bravo… Presenterò la mia proposta scritta… Per mettere delle cose di tesseramento… Altrimenti… Esplosivamente da parte mia… Personale… Sarà… Un contributo… Una liberalità… Personale… A titolo mio… Raccogliere due lire… E altri consigli da darvi… No no… Un abbraccio a tutto… Saluto Radicale… Ciao… Ciao Andrea… Grazie Andrea… Grazie… Ciao… A presto… Grazie del tuo intervento… Da libertario… Da libertario… C'è il mio amico… Collega… Produttore e distributore… Calabrese… Cosentino… Pier Francesco Aiello… Che così… Anarchicamente… Come nella… Anarchia… E mancanza di regole… Più totale… Si sta simpaticamente… Svolgendo questo congresso… Vorrebbe chiedere la parola… Da simpatizzante… Radicale… Nostro elettore… In varie consultazioni elettorali… Per dire due parole… Quindi se glielo consentite… Qui a fianco a me… Glielo concediamo… Molentieri… Assolutamente… Salve cari amici… Vi ringrazio anche Andrea… Deliberato… Che mi ha dato questa opportunità… Purtroppo si sente poco… Si sente basso il volume… Deve parlare vicino al microfono… Mi sentite cos'è… Prego… Allora… Volevo ringraziare… Intanto Andrea… Che mi ha dato questa opportunità… Perché casualmente… Mi trovo qua a casa sua… E vi saluto tutti quanti… Io… Vorrei dare un piccolo messaggio… Un piccolo consiglio… Per la mia esperienza di vita… Quella che è… Insomma di lavoro… I radicali… E quindi il partito radicale… Quindi Pannella… Tutti quanti… L'unico e più importante obiettivo… Da prefiggersi… Di andare avanti… È quello di combattere i costi della politica… Oggi in Italia… Siamo in un momento molto difficile… Sotto tanti punti di vista… È giustissima la causa delle carceri… Che Pannella ha avviato… In maniera molto meritevole… Sotto tanti punti di vista… Ma io ritengo che… Il problema dei costi della politica… Quindi tutto quello che… È attorno a questo problema… È basilare… Per poter cambiare… Rivoluzionare… Intanto… L'Italia… L'Italia… Poi secondo me è un problema… Che non è solo italiano… Ma è un problema… Mondiale… Molti paesi occidentali… Hanno questo problema… Ma in Italia… Il costo della politica… È un problema enorme… Che va combattuto… E secondo me… I radicali… Il partito dei radicali… Si deve fare… Promotore… Fino a quando… Non riuscirà… A cambiare qualcosa… Di questo sistema… Che è completamente sballato… Io sono calabrese… Di origine… Ma vivo da 30 anni… In Roma… E non è possibile… Che io per esempio… Andando in Calabria… Anche per motivi miei personali… Trovo che al mare… Esiste una comunità montana… Una comunità montana… Che prende i soldi… Con 10 persone… Che stanno in un consiglio… Che ognuno ha i suoi interessi… Che fanno sediazioni… Che non ha niente a che fare… Con la comunità montana… Cioè… Questa è una delle… Delle cose… Che io ritengo… Allora… Guarda… Il messaggio… Il messaggio è arrivato… Forte e chiaro… Per modo di dire… Perché la linea è un po' disturbata… Eh… Scusate… Vuoi aggiungere… No… Ma non mi volevo dilungare più di tanto… Vi volevo salutare… Allora… Guarda… Ti ringraziamo davvero… Per il tuo intervento… Eh… Ringraziamo Andrea Deliberato… Per il suo… Allora… Chiamo Roberto… Per continuare il dibattito generale… Adesso c'è… Come nostro gradito ospite… Luca Nicotra… Per cui invito Roberto… Sì… Ad introdurlo… A chiamarlo… A chiamarlo subito… Luca Nicotra… Segretario dell'associazione… Agorà digitale… Agorà digitale… Associazione Radicale… Agorà digitale… Eh… Dovrebbe arrivare Luca… Tra qualche istante… Sì… Stiamo chiamando… Sì… Dovrebbe arrivare Luca… Ecco qua… Ecco Luca… Luca non ha l'ultima versione di Skype… Questo ci compromette… Luca ci senti? Sì… Io vi sento… Ah benissimo… Non ti vediamo Luca… Perché non hai l'ultima versione di Skype… Hai la webcam? Sì… Ho la webcam… Però non hai l'ultima versione… Innanzitutto ti saluto Luca… Caramente… Non hai… Ti ringrazio per il tuo intervento… Eh… Vabbè… Allora andiamo in solo audio… Perché non hai l'ultima versione di Skype… Andiamo in solo audio Roberto… Andiamo in solo audio… Non hai un problema… Allora Luca… Va bene… Grazie per essere arrivato… Io ti stavo introducendo… Tu sei segretario di Aurora Digitale… Per cui… Adesso non lo so… Chi… A parte invertite… Chi sono i cugini… Gli zii… I nipoti… Comunque voglio dire… Noi siamo un'associazione telematica… Quindi siamo molto parenti… Da questo punto di vista… Con Aurora Digitale… E sono veramente molto contento… Che… Sei qua con noi… E che interviene al nostro congresso… Costitutivo… Per cui… Ti cedo molto volentieri la parola… Prego… Eh… Grazie… Grazie davvero Marco… Roberto… Mi dispiace di non potervi mandare le immagini qui di casa mia… Devo dire che… Eh… Mi piace moltissimo… L'idea di… Questa associazione… Radicale… Che si aggrega… Attorno… Eh… A un… A un media… Quindi a una web tv… Eh… Credo sia una… Un'idea azzeccata… Eh… Eh… Io non ho questa enorme esperienza di… Di web tv… Ma lo dico… Diciamo così… Per quello che mi è successo negli ultimi mesi… Eh… Forse qualcuno di voi l'ha seguito… C'è stata… A Guarda Digitale… Ha condotto una… Una… Campagna negli ultimi mesi… Eh… Sul fronte della libertà di informazione in rete… In particolare contro… Il nuovo regolamento dell'autorità per le garanzie delle comunicazioni… Che vorrebbe appunto introdurre in Italia dei nuovi sistemi… Diciamo così… Di controllo dell'informazione… Di eliminazione di contenuti… Eccetera… Non voglio però entrare nei dettagli della campagna in sé… Quello che mi interessa è che… Eh… Al termine della campagna… Eh… Abbiamo realizzato… A costo zero… Un po' come… Web tv… Radicale… Un evento… Eh… Che abbiamo chiamato la notte della rete… Eh… Che devo dire… È stata per me un'esperienza davvero illuminante… Cioè… Ripeto… Costo zero… Quindi… Senza grosse risorse… Senza… Praticamente con una settimana di organizzazione… Siamo riusciti a mettere in piedi… E senza diciamo… L'appoggio di grossi media… Televisioni… Che ne so… Telegiornali… Eccetera… A mettere in piedi un evento… Che… Eh… È riuscito… Tramite… Una rete di web tv… Quindi… Non una in particolare… Certo… L'appoggio dello streaming… Del fatto quotidiano… E altre… Eh… Però altre realtà… Ad esempio… Della federazione… Eh… Del… Eh… Dei media digitali indipendenti… La Femi… Che potrebbe essere anche per… Eh… TV radicale… Un… Un'aggregazione di media interessante… Eh… Con cui dialogare… Eh… Siamo riusciti a… Diciamo così… Per ottenere… In quella serata… Un'audience… Eh… Di… Diciamo… Solo con il fatto quotidiano… Attorno ai centomila… Eh… Contatti unici… Eh… Diciamo… Assieme anche alle altre web tv… Eh… Quindi oltre i centocinquantamila… Paragonabile… Se vogliamo… A un canale satellitare… Eh… O del digitale terrestre… Qualcosa del genere… Però su un tema davvero molto difficile… Come quello della libertà di informazione… In particolare la libertà di informazione in rete… Questo vuol dire che… Esiste effettivamente… Eh… Tramite il web… In particolare tramite le web tv… La possibilità di creare… Per alcuni momenti… Per alcune giornate… Su alcune specifiche campagne… Un'attenzione… E un'attenzione anche… Quasi di massa… Io parlavo di numeri centomila… Duecentomila… Ma il tema era difficile… Pensate su un tema molto più semplice… Molto più… Popolare… Quelli ad esempio… Le campagne radicali… Eh… Creare un'attenzione forte… Eh… Creare degli eventi… Perché poi questa è la caratteristica di una web tv… Eh… Creare diciamo così… Una simultaneità di un'esperienza… Di far parte tutti… Eh… Di una cosa che sta succedendo in quel momento… Come questo congresso… Che non è quindi uno scambio di mail… Una mailing list… Eh… No… Ma è qualcosa di più forte… Che ci coinvolge… Che ci fa ricordare… Sì… Ho partecipato… In effetti… Al congresso della tv radicale… Eh… Questo è qualcosa… Che sicuramente… Eh… Crescerà nei prossimi mesi… Ora a Santoro… Si preparano… Anche probabilmente… A fare… Un'esperienza simile… A quello che lui aveva già fatto… Non c'è… Di queste reti di tv indipendenti… Che si aggregano… Eh… Per appunto creare… Eh… Su dei temi specifici… Informazioni… Credo che… Anche tv radicale… Dovrebbe… Eh… In qualche modo… Mirare… A un modello del genere… Un modello in cui… È soprattutto… Ancora prima di che… Una tv radicale… Una tv che vuole fare politica… Che ne capisce di politica… Che riesce a individuare dei temi… Eh… Specifici… E magari riesce a fare rete… Con altre realtà… Per appunto… Creare degli eventi… Per fare in modo che… Su specifiche campagne… Ci siano dei momenti di attenzione… Quindi il fatto… Ripeto… Che ci sia… Un'associazione politica… Che si vuole… Aggregare attorno… E con tutte le caratteristiche radicali… Della pubblicità… Delle discussioni… Tutto il resto… Attorno a un media… Come una web tv… È per me… Un fattore assolutamente… Eh… Interessante… E di attenzione… Ehm… Ho sentito delle… Delle difficoltà… Che… Non sono riuscito a approfondire… No… Di relazioni… Con radicali… Punto it… Eccetera… Io credo… Il più possibile… Bisogna cercare di uscire da… Ehm… Uscire da… Possibili scontri di questo tipo… Sono davvero… Ehm… Diciamo così… Ehm… Creano un contesto… In cui invece di moltiplicare… Le forze… No… Queste… Vengono in qualche modo… Limitate… Vengono in qualche modo… Ehm… Diciamo così… Non si aiuta… L'aggregazione di… Di nuove… Di nuove energie… Nuove persone… Ehm… Credo che… TV radicale avrebbe bisogno… Probabilmente… Di una mossa così… Fuori un po' fuori dagli schemi… No… Per uscire appunto… Da questo possibile sconto… Perché… Ripeto… Secondo me… L'obiettivo… Di un media come questo… Deve essere quello di riuscire… Ad aggregare… Bisogna anche avere la capacità… E l'intelligenza… Di inserirsi… In… Diciamo… Di relazionarsi con gli altri soggetti… In un modo intelligente… Magari imprevedibile… Però… Evitando ecco… Il muro contro muro… Lo dico anche nell'esperienza della notte della rete… Scusate se ci ritorno… Ma è una cosa fresca… Di luglio… Siamo riusciti a far lavorare assieme… Soggetti… E realtà… Del mondo del web… Che… Diciamo così… Si detestano… Tra di loro… Che… Diciamo così… Non avrebbero mai collaborato uno con l'altro… Eppure… Con l'intelligenza… Con la capacità… Di essere molto politici… Precisi… Di… Superare… Di capire… Superare i problemi… Anche di immagini… Di presentazione… Anche lì… C'erano problemi di nomi… Ora… Non entrerò nei dettagli… Ma… Mi ricorda molto… Quell'esperienza… Quello che state vivendo voi… Ecco… Lì… C'è voluta… La capacità… Di sapere evitare tutto questo… E davvero… Quindi… Vi invito… Da questo punto di vista… A cercare di essere intelligenti… Il più possibile… Quindi… Non ho una soluzione… Non ho una proposta… Da farvi… Nello specifico… Ma se il vostro ruolo… È quello di aggregare… Dovete essere in grado di affrontare… Le situazioni come queste… Perché… Si… Si ripresenteranno… Probabilmente… Molto spesso… Ovviamente… Spero… Come segretario di Agoradigitale… Di… Che… L'associazione… La web tv… Voglia… Nel tempo… Anche sposare… Alcune… Delle battaglie… Sulla libertà di informazione… In particolare… Sulla libertà di informazione… Legate al web… Che… Stiamo facendo avanti… Anzi… Diciamo così… Lo do praticamente per scontato… Però… Poi chiaramente… Ciò che è scontato… In realtà… Si deve… Attuare… Nei fatti… Nel cercare collaborazioni… E tutto il resto… In particolare… Ce ne sono diverse… Che possono… Sicuramente… Interessare molto… Ce n'è una… Che stiamo… Per… Una campagna… Su cui stiamo lavorando… Proprio in queste settimane… E che riguarda ad esempio… La possibilità… Di accedere… Ai contenuti del web… E quindi ad esempio… Anche alle web tv… A tutte le web tv… E anche ad esempio… Web tv radicale… Attraverso… I nuovi apparecchi… Che… Milioni di italiani… Si trovano in casa… Per lo più… Con poca conoscenza… Dello strumento… Dopo il passaggio… Al digitale terrestre… Non tutti lo sanno… Ma ci sono ad esempio… 5 milioni di televisori… In questo momento… Nelle case italiane… Che non solo… Ovviamente possono ora… Ricevere il digitale terrestre… Ma… Ci hanno una presa Ethernet… Quindi potenzialmente… In quelle televisioni… In quelle televisioni… Si può guardare… TV Radicale.it… Ok… Questo… In questo momento… Non è possibile… Non è possibile… Perché esistono degli accordi… Tra chi… Che ne so… Samsung… Con gli specifici produttori… Contenuti… Che decidono di creare… Invece… Il loro wall garden… I loro… Giardini recintati… Magari molto più ampi… Di quelli… A cui siamo abituati… Con la tv… Tradizionale… Però… Sempre dei wall garden… Sempre una cosa in cui… Cosa… Spondare… Cosa no… Viene selezionato… Dai gatekeeper… Da chi ha le chiavi… Del sistema… Ecco… Ad esempio… Questa è una battaglia… Che ripeto… È difficile… Ma… Non che quella… Sulla censura… Che… Diciamo… In qualche modo… Abbiamo vinto… In una sua prima parte… Fosse facile… Lì… Ci abbiamo messo… Sei… Sette mesi… Per convincere… Diciamo così… Gli addetti ai lavori… Che era una campagna da fare… Che era una campagna giusta… Siamo apriti a dicembre… E a luglio… Siamo arrivati… A diciamo… A fare un po' di… Attenzione… Ecco… Questa è una campagna… Che stiamo iniziando ora… Ad esempio… Sarebbe interessante… Anche su questo… Diciamo… Dialogare… Con una realtà… Che proprio nel web… Vuole vivere… Come web tv radicale… Con questo… Io vi saluto… Spero di essere stato nei tempi… Aspetta Luca… Aspetta… Vi dobbiamo torturare un po' eh… Ah… Ok… Perfetto… Ditemi… Allora innanzitutto… Grazie per il tuo intervento… Che è stato stupendo… Veramente molto… Ma molto interessante… Hai detto alcune cose… Su cui mi ero anche soffermato io… Nella mia relazione di apertura del congresso… Ti volevo fare una domanda… Secondo te… Gli ISP… Gli Internet Service Provider… Rispetto all'utilizzo del peer to peer… Per lo streaming delle web tv… Faranno opposizione o no? Perché quella è la chiave di volta… Che permetterebbe di risolvere… Il problema della banda… Per lo streaming… Che il grosso limite… Per tutte le web tv… In Italia… Visto che abbiamo una banda internet… Una banda… Una banda… Una banda internet… Così che… Insomma… Non è diffusa a livello nazionale… Quando è diffusa… Non è di buona qualità… Secondo te… I vari provider internet… Che metteranno dei limiti… All'utilizzo del peer to peer… Per fare lo streaming… Eh… Bella domanda… Ma… Il punto… Mi sa che… Diciamo… Come tecnologia… Il peer to peer… Per fare lo streaming… È probabilmente interessante… Per una serie di realtà… Esiste già… Come tecnologia… Sì… Sì… No… Ma dico… Da un punto di vista… Diciamo così… Industriale… Diciamo… Dei media… No… Probabilmente interessa… In realtà… Solamente… Realità… Almeno per ora… Credo… Medio piccole… Non lo so… In realtà… Non sono… Come dicevo prima… Un… Un… Specialista… Della realtà web tv… Sicuramente… Il problema… Che voi vi ponete… C'è… Credo sia giusto… Porselo… Credo probabilmente… In prospettiva… Sì… Ci sia il grosso rischio… Ma… In parte… Probabilmente… Molti provider… Già fanno… Selezione… No… Di… Diciamo… Shaping… No… Quindi… Della banda… Contro il peer to peer… Utilizzato anche per lo streaming… Perché… Per quanto ne so… Non viene fatta grossa distinzione… Fra i diversi tipi di peer to peer… Eh… Almeno… Attualmente… Eh… Ora… Diciamo… I tempi… Cioè… Per ora… Non esiste in Italia… Una tutela della neutralità della rete… In realtà… Esiste… Che sarebbe… Diciamo così… L'idea… Per cui… Nessun provider… Può… Decidere… Cosa passa… Sui suoi… Diciamo così… Cosa fanno i suoi utenti… Sostanzialmente… Eh… Quindi… Sostanzialmente… In questo momento… C'è… Campo libero… Da parte dei provider… Che… Da un momento all'altro… Potrebbero decidere… Di… Limitare… Ulteriormente… Banda… Cosa del genere… Eh… Certo è che… Sia… All'interno dell'autorità… Per le garanzie delle comunicazioni… Che… Eh… In Parlamento… Ci sono alcune poste… Proprio… Che vertono… Sulla neutralità della rete… A cui credo… Eh… Potreste… Dovreste prestare attenzione… Perché vanno nella direzione giusta… Anche… Ad esempio… Di una tutela… Di una tecnologia… Come il peer to peer… Eh… Utilizzabile… Diciamo così… Per lo streaming… Certo… Poi… C'è da… Appunto… Da… Da considerare… Tutto il… Eh… Diciamo… Politiche… Industriali… Più ampie… Cioè… È vero che… Potrebbe essere… Anche… Una… Tecnologia… Utilizzabile… Eh… Magari… Senza grossi filtri… Poi… Eh… Diciamo… Ci si sposta sempre di più… Verso macchine… Con bassa potenza… Eh… Quindi con lo spostamento… Di tutta la tecnologia… Sul fronte… No… Quindi cloud computing… No… Stile google… Diciamo così… In cui quasi tutto… Non è più nel tuo computer… Ma è fuori… Beh… Esatto… E quello rimane comunque… Un problema… Indipendente… Poi… Da volontà politiche… Di sabotare… Una tecnologia… Dell'altra… Eh… Non è facile… Però… Se voglio… Io sono chiaramente disponibile… Anzi… Molto interessato… A parlarne… Poi… Soprattutto con chi… Nel campo… Vuole fare attività… Luca… Io quello che… È stato per il tuo… Che non è stato un semplice intervento… Ma è stato veramente… Un intervento… Interessantissimo… E partecipato… Io spero che… Agoradigitale… Voglia collaborare… Con… La nascente associazione… Eh… Non so come si chiamerà… Però insomma… Tribù Radicale… Quello che è stato… Quello che sarà… Vedremo… E… Lo deciderà il congresso… E… Magari proprio per avere uno spazio… All'interno della Wall TV… È stato… Alle tematiche… E alle battaglie… Che porta avanti… Agoradigitale… Che magari potremmo portare avanti insieme… Ecco… Io spero che veramente… Tu ti vorrei rendere disponibile… Per questo… Sarebbe un onore… Per noi… Ospitare Agoradigitale… In uno spazio fisso… E solo questo… Ti volevo dire… E ringraziarti chiaramente… Tutto qui… Assolutamente… Già da adesso… Ti do la mia disponibilità… Perfetto… Grazie Luca… Bene… Allora… Dalla… Presidenza… Arriva anche un ringraziamento… Per Luca… Il tuo intervento è stato… Non è stato… È stato tutt'altro che formale… È stato un intervento politico… E anche operativo… Su problemi… Cose concrete… Del quale veramente… Ti ringraziamo di cuore… Guarda… Se tu vuoi continuare a seguirci… Noi siamo lieti… Puoi restare con noi… Qui collegato su Skype… Piuttosto che… Puoi seguirci direttamente… Dalla Web TV… Voglio dare… Prima di dare la parola… Paolo Musumeci… Noi stiamo rimandando sempre l'intervento… Però purtroppo non è online… Quindi adesso… Arriva il turno di Donatella Corleo… E poi… Chiuderà… Se non ci saranno altri scritti a parlare… E se… Dal tavolo della Presidenza… Non ci saranno di parlare… Marco… Perdonami una questione tecnica… Siccome Skype Premium… Consente un massimo… Di multicam… Fino a 10 webcam… Contemporaneamente… Noi siamo a ridosso di questo limite… Quindi… Se sei d'accordo… Io chiuderei un attimo la conferenza… E la ripristinerei di nuovo… Perché vi sono… Alcune webcam inattive… Che possono uscire dalla conferenza… Bene… Allora… Io… Sì… Bene… Allora… Quindi facciamo una brevissima sospensione… Ma che durerà pochi secondi… Va benissimo… Sì… Pochi secondi… Tengo io la linea… Ecco… Infine… Con… Luigi… Mazzotta… Ecco… Così… Aggiungiamo… Tutti coloro che erano alla presidenza… Sì… Puoi aggiungere anche Riccardo… Ah Riccardo… Giusto… Me l'avevo dimenticato… Perdono… Allora… Quindi… Mentre ripristiniamo… Tutti quanti i collegamenti… Per questo reset delle webcam… Che è una cosa… Si è già tutto fatto… Ah… Perfetto… Allora… Ho da darvi… Prima di dare quindi… La parola a Donatella Corleo… Quindi Alberto… Se tu vuoi… Cominciare a chiamarla… Sì… E… Dopo chiederò chiaramente… Alla presidenza… Se c'è qualcuno che vorrà intervenire… E intervenire… Se non ci sarà nessuno… Ti viene ancora… Di questa prima giornata… Eh… Di questi nostri lavori concursuali… Se fa un gusto… Però… Dato prima… Dalla comunicazione… Di servizio… Sono rispettivamente… Alla chiusura… La giornata di oggi… Dei lavori concursuali… E… Si aprirà automaticamente… Il dibattito… Il dibattito generale… Scusate… Soltanto un attimo… Forse ce l'ho aperto… Eh… E… Quindi dicevo… Ehm… Alla fine… Di questi… Lavori di oggi… Ehm… Stiamo per dare la parola… A Donatella Corleo… Che si è appena collegata con noi… Che salutiamo… Ehm… Incomincerà il dibattito generale online… Ehm… Sul forum… Ehm… Sul forum… Si può accedere… Tranquillamente… Digitando www.tiburadicale.it… Allora… Ehm… Ci sono delle scadenze… Dei termini di scadenza… Sono molto importanti a rispettare… E sono esattamente questi… Ehm… Ehm… Allora… A sabato 10… Ci saranno le votazioni agli emendamenti allo statuto… Per cui… Chi vorrà presentare emendamenti allo statuto… Dovrà chiaramente… Nei termini fissati… Ehm… Dall'ordine dei lavori… Attrezzarsi… Ed eventualmente presentarli… Con le firme necessarie… E quindi vi invito ad andare a leggere… Sia l'ordine dei lavori… Che il regolamento del congresso… Ehm… Sabato 10… Dalla mezzanotte… Fino alle ore 24… Quindi nell'arco delle 24 ore… Il dibattito generale… Continuerà sul forum… Ci sarà la possibilità di intervenire iscritto… E anche in audio video… Che è una cosa innovativa… E molto bella… E in ogni caso… Riceverete… Sulle caselle di posta elettronica… Parlo sempre di chi si è registrato al congresso… Come socio costituente… Nella casella di posta elettronica… Con la quale si è registrato… Riceverà l'invito… Per votare… Eventuali emendamenti allo statuto… Se non ci saranno emendamenti… Lo comunicheremo… Ehm… Questo voto… Sarà espresso in modo palese… E in modo palese… Significa che vi arriverà quest'email… Da Google Group… Alla quale… Si potrà rispondere con… Sì… Oppure approvo… No… Oppure non approvo… Oppure astenuto… Oppure… Domenica prossima… La seconda sessione… In streaming… Del congresso… Comincerà alle ore 15… Ehm… Poi ci sono tutta una serie di termine… Alle 17… Termineranno… Cioè… Terminerà il tempo… Per presentare le emozioni… Alle 19… Terminerà il termine… Per presentare… Gli emendamenti… E dalle 19… Poi ci saranno le votazioni… In modo palese… Su eventuali emendamenti… Alle emozioni… E poi… Il voto segreto… Attraverso il link… Che comunicheremo… Al momento… Non lo possiamo comunicare adesso… Perché… Per ragioni chiaramente… Di sicurezza… E per garantire… La segretezza di questo voto… Perché utilizzeremo… Un modulo informatico… Che abbiamo testato… E che c'è… Garantirà la segretezza del voto… E la buona riuscita… In questa operazione… E ci sarà… L'elezione… Del segretario… Del tesoriere… Del presidente… Eventualmente… Del… Del rappresentante… Insieme al comitato… Nazionale… Di Radicali Italiani… Perdonatemi un po'… La ridondanza… Sempre di queste informazioni… Di servizio… Che sono postretto a dare… Perché è chiaro… Che questo congresso… Non si svolge in una sala… Per cui non siamo tutti quanti… Riuniti… Quindi ci sono persone… Che magari… Si sono collegati… In orari diversi… Durante la giornata… Io vedo la postazione… Di Donatella Corleo… Già pronta… Saluto Donatella… Ciao Donatella… Ciao… Mi sentite? Benissimo… Donatella… Lontanati un po' dal microfono… Mi sentite? Perfettamente… Adesso ti sentiamo perfettamente… A te la parola per il tuo intervento al nostro congresso… Benvenuta… Io purtroppo non vi ho potuti seguire… Perché sono stata… In giro… In giro… Per la città… Perché c'è… Davanti a Palazzo… All'Assemblea regionale… Un presidio… Dei precari… E la scuola… Personale… Parascolastico… Soprattutto… In… In digiuno… Eh… Chiedono un colloquio… Un incontro… Ovviamente… Con il governatore Lombardo… Per tutta la situazione… Del personale… Eh… Sono stata… Eh… Tutto il giorno… Tutto il pomeriggio… Con questi amici… Persona che tra l'altro conosco… Al di là… Della… Della loro… Attuale… Eh… Protesta… Chiamiamola protesta… Perché le proposte… Eh… Eh… Non… Io onestamente ancora… Non… Non ho capito in che cosa si concretizzeranno… Probabilmente… Tra qualche minuto… Tra qualche ora… Faranno questi ragazzi… Dei… Dei comunicati… Quindi io sono stata lì… E non vi ho potuti seguire… Mi perdonatemi… Mi perdonatemi davvero… Quindi se volete… Si è perdonata… Non so se… Si può recuperare da qualche parte… La presidenza di questo congresso ti ha perdonato… Mi avete perdonata… Scusatemi però… Mi avevano chiamata perché… C'è tra l'altro una mia amica docente… Che ha prodotto i documenti per la scuola… Anche a livello nazionale… Eh… Che voleva essere sostenuta… Nel digiune… Insomma… Una serie di motivazioni per le quali… Dovevo essere con loro… A parte che è doveroso anche… Essere presenti… Pur non condividendo in toto alcune posizioni dei precari in genere della scuola… Secondo me… Come radicali… Di fronte alle istanze di chi metodologicamente… Metodologicamente… La pensa come noi… Un tantino… Cercare di comprendere anche le ragioni degli altri… Altri che hanno… Tra l'altro… Pericolo… Il rischio di perdere il posto di lavoro… C'è concretamente… Eh… Da quello che ho capito… C'era fondamentalmente… La ridistruzione degli insegnanti sul territorio lombardo… Eh… Persino formigoni… E cota dall'altra regione… Si erano mossi… Qui il nostro governatore… E chi dovrebbe… Eh… Non ha fatto nulla… Questo è il motivo del dissenso e anche del digiuno… E sono in digiuno… Ci sono una staffetta… Eh… Sì… Sono… Ospedale… Eh sì… Ospedale… Personale… Parascolastico… Bidelli… Ecco… Per capirlo… Intanto loro sono riuscissimi della qualifica… Collaboratori della scuola… Ma anche insegnanti… Domani ci dovrebbe essere la… Deputata nazionale siracusa del PD… Che tra l'altro è siciliana… E si occupa di questo… C'è stata in digiuno… Mila Spicola che è una dirigente del PD… E che di scuola si occupa… Abbondantemente con competenza… Quindi io… Anche per farmi un'idea… Di quello che avviene nel mondo della scuola… E non è la prima volta che li seguo… Cerco di comprendere qua… Quali sono poi le esigenze del personale scolastico… O palermitano nel particolare… Quindi eh… Gli ho fatto il riassunto della mia giornata… Di militante che ascolta… E cerca di comprendere… Una materia che… Almeno per me… Pure essendo figlia e nipote di insegnanti… È un po' sconfina… Sconfina da quello di cui… Come radicale… Almeno politicamente… Eh… Cerco di occuparmi… Non dico mi occupo… Cerco… Forse… La modestia non è mai troppa… Voi… Mi raccontate… Ma… Noi eh… Siamo qui… Abbiamo esposto… Eh… Come… In un classico congresso… Solo che si svolge online… Le eh… Le relazioni… Eh… Comunque non… Non è perso nulla… Perché potrai poi dopo recuperarle successivamente… Dal nostro sito… Uv… Figuradicale.it… Adesso… Abbiamo aperto il dibattito generale… Ci sono stati già numerosi interventi… Poco prima di te è intervenuto eh… Luca Nicotra… E adesso abbiamo un altro iscritto a parlare… Ehm… Se tu vuoi dirci ancora qualche altra cosa… Ti ehm… Mantengo su di te volentieri la parola… Altrimenti ehm… Incominciamo a predisporre l'intervento successivo… Io cosa posso dire che… Che al livello siccome seguo come è noto… Cerco di… Di portare avanti le campagne del nazionale… Qua noi ci stiamo preparando… Come associazione… Come gruppo dei radicali di Palermo… Comunque… Per l'appuntamento… Previsto in tutta… Scusami Donatella… Voglio darti un'informazione… Eh… Donatella perdonami… Eh… Voglio darti un'informazione che è questa… Allora… Noi… In questo congresso qui… Eh… Come comitato promotore… Abbiamo presentato una proposta… Una bozza di statuto… Un po' no… Più che una bozza… Un vero e proprio… Statuto… Una proposta di statuto… Che contiene all'interno un'innovazione… Quest'innovazione è che… Se un'associazione richiede l'iscrizione a TV radicale… Ne diventa automaticamente soggetto costituente… Quindi non so se a Palermo vi siete costituiti… Siete organizzati… No, non siamo 30 iscritti e non siamo 30 iscritti a radicali italiani… No, no, no… Al di là… Al di là degli iscritti… Non so se vi siete costituiti come associazione… No, noi siamo… Ci siamo costituiti… Non abbiamo fatto l'idea… Nel senso tradizionale… Retto… Per farla breve… Questo gruppo di militanti radicali a Palermo… Esisteva da quando sono rientrata in pianta stabile da Milano… Fissa da due anni praticamente… Io ho cercato di raccogliere nuovamente… Richiamare… Alcuni vecchi compagni con i quali avevo cominciato vent'anni fa la mia militanza qui a Palermo… Alcuni hanno risposto… Altri no… Sono persi… Non lo so… Vedremo un poco… Perché quando vi faccio il nome di un Piero Pastena che è stato uno dei primi radicali a Palermo… Impegnato sul fronte del pacifismo e dell'antimilitarismo… Quando vi faccio il nome anche di un'altra compagna meno conosciuta come Tania Gallina… Con la quale io quando sono arrivata a Palermo ho cominciato a fare tutte le compagne preferentarie… E in più altri compagni nuovi che si sono avvicinati pur avendo non necessariamente elettori delle liste pannele… Delle liste radicali… Ma che si sono avvicinati e continuano ad avvicinarsi persone nuove che mi si avvicinano… E detto molto tranquillamente tramite contatti che ci fa avere il gruppo che supporta Mario Saderini… Alcuni nominativi che mi sono arrivati nel momento in cui abbiamo cercato di fare gruppo e associazione… Sono rimasti un paio, due o tre rispetto ai pochi nominativi onestamente… E poi altra gente che stando in mezzo a gente… In mezzo alle persone che magari tu sulle prime pensi sono altro da noi… Sono diversi nel momento… Non è vero… Perché io ho come vissuto persone che proprio mai mi sarei immaginata che si sarebbero avvicinati a… Non ti dico tutte le battaglie… Ma l'80% delle battaglie… Delle battaglie… Delle campagne che conduciamo adesso… Si sono avvicinate e rimangono… E si iscrivono pure… Noi siamo 22 iscritti come associazione radicali Palermo… Abbiamo fatto l'assemblea con quella… Bisogna comunicare al segretario 10 giorni prima, 20 giorni prima… Io gli sono fatta l'associazione e lo sanno… Io ho fatto l'associazione in questi termini… Chi c'è c'è chi non c'è non c'è… A me interessa che qui il marchio radicale… La Sicilia ha dato moltissimo al partito da Sciascia… Per non dire da Rino Dolci… Per non parlare di Roccella… E quindi a me non mi andava più che l'immagine erano tutti radicali… Tutti erano radicali… Tutti radicali nel senso… Si pannella tutti radicali… Però poi di fatto a livello di militanza… Di impegno… Di costanza… E anche di… Diciamocelo pure francamente… Di decoro nell'immagine… Perché il radicale non è brutto… Volgare… Cattivo… Così come molto spesso viene rappresentato… Soprattutto da noi… Io ritornando a Milano… Ho visto che c'era uno sfacelo… E ho ritenuto opportuno… O mi muovevo così… O rimanevo sola… E francamente… Mi sono sentita in quest'inverno… Soprattutto autoreferenziale… Anche perché… E qui lo chiudo… Sia da destra che da sinistra… Allora i radicali che fanno… Tu che fai Donatella… Cosa… Ti candi di qua… Ti candi di là… Allora ho detto… Guardate… Io mi sono inventata… Letteralmente… Che c'era un gruppo volto… Allora inventa… Che ti inventa… Il gruppo… Poi di fatto… A poco a poco… Si è costituito… Si sono avvicinato… Ecco… E quindi io… Non mi sento più… Autoreferenziale… Una condizione che io… Come persona… Come radicale… Come mi ha insegnato Marco Pannella… Ma prima ancora… Io li metto sempre insieme… Mio padre… Mia madre… Marco… Tutti e tre… Grandi liberali… Dal mio punto di vista… Grandi liberali… Tutti e tre… Quindi… Io ho pensato di procedere in questo… In questo modo… Non escludo… Non lo… Spero che l'assemblea… Nel senso tradizionale… Per statuto… I radicali italiani… Venga… La faremo pure… Intanto noi ci muoviamo così… Facciamo l'iniziativa sul nazionale… Infatti il 6 ottobre… Ci saremo… Come radicali Palermo… David Cato Chisule… Ci saremo… Ci saremo… E saremo anche con altre associazioni palermitane… Che hanno anche una valenza nazionale… Come forchette rotte… Piuttosto che chi si avvicinerà… Non lo so… Faremo questa… Ci stiamo lavorando sui contributi silenti… Anche con altre associazioni… A parte ANCOT… E altri… Io mi muovo così… Ragazzi… Se poi gli altri radicali… Nelle altre città si muovono… Non mi interessa… Bene, bene Donatella… Il tuo è un metodo assolutamente giusto… Corretto… Tra l'altro non violo nessun… Non violo nessun… Diritto di nessuno… Ecco… Assolutamente… Assolutamente… Invece… Invece a noi… A noi Donatella… In queste ore… Eravamo fuori… Eravamo fuori a Palermo… Perché poi quando… Poi quando mi si capita… Ma allora tu che fai… Ti dà… Molto semplicemente… Come lo ripeto… Ed è vero… Io ho sempre accettato le candidature… Soltanto se provengono da radicali… Ovvero poi firmate da Marco Pannella… Per cui sia detta che sinistra… Che nord e sud… Si possono mettere il cuore in pace… Bene Donatella… Grazie… Grazie del tuo intervento… E io… Ti dico… Beh… Sono veramente felice che a Palermo… Finalmente ci sia un'associazione… Radicale… Anche se non è costituita… Ai sensi dell'articolo 2… Quello passaggio burocratico… È costituita… Perché abbiamo un segretario che sono io… Un tesoriere e un presidente… No, no, no… È anche un direttivo… No, no… Costituita… Dicevo un'altra cosa… Senza l'articolo 2… Dello statuto dei radicali italiani… Il discorso del riconoscimento… C'è un'associazione… Nel momento in cui si costituisce… È formalmente costituita… Basta… E quindi guarda… Veramente ti rinnovo l'invito… A valutare tu insieme agli altri compagni di Palermo… Se lo vorrete… Iscrivendovi a TV Radicale… Come associazione potrete diventare soggetti costituenti… E c'è ancora tempo… D'accordo… Io il martedì ho una riunione con i compagni… Quindi riferirò senz'altro… E di questo qui ti ringrazio davvero… Grazie di nuovo a Donatella Corleo… Chiedo a Roberto… Grazie a voi… Grazie… Continua a seguirci… E chiedo a Roberto… Se può approntare il collegamento con Stefano Russo… Sì… In modo che nel frattempo… Vi dia anche un'altra informazione… Allora… Alla fine dell'intervento di Stefano Russo… E chiederò a Donato Volpicella se ci sono altre richieste… Per altre iscrizioni a parlare da parte dei congressisti… Se non ce ne saranno… E chiederò poi dopo al tavolo della Presidenza… Se qualche altro vorrà intervenire… Dopodiché chiuderemo… In questa prima nata del Congresso Costitutivo di TV Radicale… E si aprirà… Involgere il termine di uno… Tempo di uno spot… In diretta… Per chi… Su un… TV2Degara.it… E un… Una tavola rotonda… Una tavola rotonda… Una tavola rotonda… Per tutti… Quindi… Chi vorrà esserci… E che mai… Chiaramente il nostro contatto Skype… E se segna… Alla… E… Almeno lo so… Adesso il tempo… Senza tempo… Il tempo che… Richiederà… Tutti… E faremo questa tavola rotonda… Con… Un giro di tavolo… Di opinioni… Io vedo che Stefano Russo ancora non c'è… Ma c'è il sistema Skype… In questo canale… Se ne andiamo a cercare… E… Subito… Possiamo mettere in linea… E gli possiamo cedere… Cedere la parola… E intanto… Donato Corficella mi dice che altre richieste… E… Altre iscrizioni a parlare… Per adesso… Non ce ne sono… Chi si vuole iscrivere a parlare… Vi rinviare un'email… E… Stefano Russo… Adesso gli daremo la parola… A non… No… E purtroppo Stefano Russo non risponde Marco… Probabilmente si è allontanato un attimo dal computer… Ci ha seguito per tutto il giorno… Quindi avrà avuto un momento… Di defiance… Si sarà allontato… Provo di nuovo a chiamarlo… Si… Proviamo di nuovo a chiamarlo… Intanto… Continua a dare queste informazioni… Vediamo se riusciamo a fare un collegamento… Io ricordo che anche per… Le iscrizioni… Non vengono assolutamente chiuse le iscrizioni a parlare… Perché… Chi richiederà la parola… Sulla casella di posto elettronica… Parlo… Questo è rivolto chiaramente… A tutti quanti… Quelli che ci saranno scritti… Come… Ci costituenti… Tutti coloro che… Sulla casella di posto elettronica… Ci faranno avere una richiesta di iscrizione a parlare… All'indirizzo… Tv… Radicale.com… E noi lo metteremo in vista… Chiaramente… Per gli interventi… Di giorno… Di giorno… Di giorno… Poi dopo… Moduleremo i tempi… E tutto il resto… Allora… Stefano Russo… Mi pare che non è in linea… Mi confermi Roberto… No… E' in linea… Ma non è al computer… Perché si deve essere allontanato… Un attimo… Provo per la terza volta a chiamarlo… Va bene… Allora… Aspettiamo qualche secondo… Vediamo se Stefano Russo… Ci risponde… Altrimenti poi… Potrà intervenire… Su forum… Comunque… Sarà… Gradito… Su intervento… Giorno 11… Quando si aprirà… La seconda sessione… Del nostro congresso… Il forum… Il forum… Che si aprirà… Da qui a qualche minuto… Oppure dopo… L'intervento di Stefano Russo… Sarà un forum… Aperto a tutti… Sarà una chiacchierata… Libera di politica… E sarà una chiacchierata… Anche su questa… Difficoltà… Che sono anche sul nome… Che pura di cave… Punto it… Che ci hanno… Che ci hanno… Sconvolto… No… Perché comunque… Il progetto… Sta andando avanti… Così come era previsto… La piena sovranità… Congressuale… Deciderà… Se cambiare il nome… Oppure no… A questa associazione… Se questo progetto… Dovrà andare avanti… Con il nome… Che il comitato promotore… Ha deciso… Stefano Russo… Purtroppo… Non c'è… Allora… A questo punto… Chiedo… A chi è seduto… La presidenza… Se vuole intervenire… Donato… Potrebbe intervenire… Per darci… La sua opinione… Non è ancora intervenuto… Donato… Invito Donato… A prendere la parola… Donato… Vuoi intervenire… Ah… Non interviene Donato… No… Donato è silente… Quindi… Allora… A questo punto… Dichiaro… Chiusi i lavori… Di questa prima giornata… Del congresso… TV Radicale… Un saluto… A tutti i congressisti… Un saluto… A tutti… Gli osservatori… Un saluto… A chi è passato… Da questa web tv… E ci ha ascoltato… Oggi… Dateci dentro… Con il dibattito generale… Sul nostro forum… www.tivurradicale.it… Il tempo di uno spot… E quindi… Ritorneremo… In diretta streaming… Per il forum… Post… Prima giornata… Congressuale… TV Radicale… Un saluto…